santa rosalia è una santa che ci interroga la cosiddetta santuzza in ci interroga perché era figlia di persone ricche fedotari e ha lasciato tutto per vivere in povertà quindi interroga le persone ricche o comunque benestanti nel essere ben attaccato a quello che si ha e donare molto di più alle persone in difficoltà oltre il superfluo sicuramente interroga anche i poveri perché siamo portati tutti a lamentarci nelle distrettezze economiche invece questa santa ci fa vedere come vivendo con niente in realtà si può essere felice mettendo dio al centro quindi interroga tutte le classi sociali questa santa inoltre noi abbiamo come punto di riferimento nella preghiera perché all'epoca diventò colei che ha salvato palermo dalla peste quindi può diventare una preghiera importante anche per salvarci dal comune preghiamo la santuzza